La situazione meteorologica sulla nostra regione sarà caratterizzata nel fine settimana dalla flussura di correnti sud-occidentali piuttosto umide, che precedono due fronti. Uno passerà nella notte tra sabato e domenica, un altro nella notte tra domenica e lunedì. Per sabato prevediamo quindi nuvolosità variabile su tutta la regione più consistente in montagna, segnatamente sulla fascia prealpina e a ridosso di quest'ultima, mentre a tempo un po' migliore interesserà la costa. Sarà possibile qualche locale pioggia, in genere debole o moderata, specialmente sulle prealpi, possibile localmente o isolatamente anche su alcune zone della pianura, specialmente verso est. Sulla costa soffierà vento da sud, moderato. Temperature stazionare un lieve calo nei valori massimi rispetto ai giorni precedenti, che si attesteranno sui 22-23 gradi sia in pianura che lungo la costa. Nella serata di sabato e nella notte tra sabato e domenica, piogge più diffuse e qualche anche temporale che potrà determinare piogge più abbondanti. Domenica primo mattino quindi ancora cielo nuvoloso coperto con piogge diffuse e qualche temporale, poi nelle ore centrali della giornata di domenica, pianura e costa, vedranno un relativo miglioramento con qualche fase di variabilità, mentre sulle prealpi dovrebbe continuare a piovere con più continuità. Nel corso della serata e della notte tra domenica e lunedì, di nuovo piogge più diffuse e rovesce temporali che poi si porteranno fino a lunedì primo mattino. Per quanto riguarda domenica, il vento rimane moderato da sud sulla costa, moderato e sostenuto da sud ovest, in quota in montagna. Temperature ancora stazionarie con massime intorno ai 22-23 gradi in pianura e sulla costa. Lunedì poi, dopo i temporali del mattino, avremo un miglioramento associato all'ingresso del vento di bora e temperature in diminuzione nei giorni successivi. Dalla serata di metodo dell'ARPA, Arturo Pucillo vi saluta.